Charlie Luciano, noto al mondo come Lucky Luciano, è una figura iconica nella storia del crimine organizzato. Nato Salvatore Lucania all'Ercara Friddi il 24 novembre 1897, questo mafioso italiano ha lasciato un'impronda indelebile nella cosiddetta cosa nostra statunitense. Attraverso un intricato percorso legale negli Stati Uniti, Lucania divenne ufficialmente Charlie Luciano, ma è il suo soprannome Lucky a raccontare una storia intrigante. Questo appellativo gli fu affibbiato dopo un evento straordinario il 16 ottobre 1929. I gnotti lo accoltellarono ripetutamente, abbandonandolo su una spiaggia di Staten Island con la gola squarciata, convinti della sua morte. Ma contro ogni previsione Luciano sopravvisse, guadagnandosi il soprannome Lucky, il Fortunato. La sua influenza nel mondo del crimine organizzato raggiunse nuovi apici quando, con astuzia e visione, abolì la tradizionale carica di Capo dei Capi e introdusse la Commissione tra le cinque famiglie di New York. Questa mossa innovativa gli conferì il titolo di padre del moderno crimine organizzato. Salvatore Lucania, originario di l'Ercara Friddi, un affascinante borgo della provincia di Palermo, noto per le sue miniere di Zolfo, vide la luce il 24 novembre 1897. Figlio di Antonio Lucania e Rosalia Caffarelli, il suo destino prende forma in un contesto intriso di tradizioni e sfide, ancorato alle profonde radici della Sicilia. Nel 1905 l'avventurosa famiglia Lucania intraprese un viaggio epico verso gli Stati Uniti d'America. Tuttavia, l'arrivo non fu privo di drammaticità. All'ingresso a Ellis Island, il giovane Salvatore fu colpito dalla diagnosi di variola vera. Un'ombra che avrebbe segnato indelibilmente il corso della sua vita. Nonostante le avversità, abbracciò la nuova terra e, divenuto cittadino statunitense nel processo, rinunciò alla sua originaria cittadinanza italiana. Negli anni successivi a loro arrivo a New York, i Lucania trovarono rifugio nel Lower East Side, in prossimità del quartiere praico. In questo contesto, la vita di Lucania divenne un'avventura piena di sfide, svolta sulle strade della Grande Mela. E' qui che Salvatore, noto come Charlie, stabilì un legame fondamentale con il giovane Meyer Lansky, dando inizio a un'amicizia destinata a plasmare il futuro di entrambi. Insieme, costituirono una banda specializzata nel bullismo tra compagni di classe e nell'estorsione di un penny quotidiano, considerato una forma di protezione. L'infanzia di Charlie Luciano fu segnata da incidenti. Nel 1907, a soli dieci anni, fu condannato a quattro mesi di riformatorio per furto. La sua vicenda con la legge continuò fino all'età di 18 anni, quando affrontò una pena di sei mesi per possesso illegale di eroina e morfina, esplorando così entrammi lati del mondo degli stupefacenti. Unendosi alla temuta Five Points Gang sotto la guida di Johnny Torrio, Luciano ebbe l'opportunità di incontrare figure di spicco come Franco Stello e Al Capone, stabilendo legami destinati a lasciare un segno indelebile nella storia criminale. Durante questo periodo, Charlie Luciano decise di abbandonare il nome Salvatore, ritenuto troppo femminile, per adottare l'identità americanizzata di Charlie Luciano. Il periodo del proibizionismo negli anni 20 segnò una svolta nella vita di Luciano. Nel 1920 si unì ad Arnold Rothstein, un gangster ebreo, formando un potente team con Meyer Lansky, Franco Stello, Bugsy Seagel, Dutt Schultz e Jetslegs Diamond. Sfruttando l'illegalità del commercio alcolico, il gruppo di Luciano rifornì gli spekeesis di Manhattan, introducendo clandestinamente liquori provenienti dal porto di New York. Il decennio successivo vide Luciano emergere come una figura centrale nell'organizzazione criminale, gestendo non solo il traffico di alcolici, ma anche il mondo della prostituzione e del gioco d'azzardo. Il soprannome Infame, tra le ragazze avviate alla prostituzione, testimoniano il suo dominio in queste sfere. La sua storia ebbe un capitolo cruento nel 1922, quando come killer, partecipò all'assassinio di Umberto Valenti, acerdimo nemico di Gio Masseria. La sua scesa continuò, guidato dalla sua abilità strategica e dalla rete di contatti eccezionali. Il culmine di questo periodo fu l'incontro del 1929 ad Atlantic City, dove Luciano contribuì a plasmare le strategie comuni per la divisione del contrabbando di alcolici e a gettare le basi per il Sindacato Nazionale del Crimine. Tuttavia, la sua fortuna ebbe una battuta d'arresto nel terribile evento del 16 ottobre 1929, quando venne accoltellato e lasciato per morto su una spiaggia di Staten Island. La sua sopravvivenza contro ogni aspettativa gli valse il soprannome di Lucky, il Fortunato, un appellativo che l'avrebbe accompagnato per sempre. La vita di Charlie Luciano è un intreccio avvincente di astuzia, violenza e stratagemmi, una saga che lo ha portato a essere riconosciuto come uno dei protagonisti principali del mondo criminale del ventesimo secolo. Nel turbolento scenario della guerra a Castellammarese del 1930-31, combattuta tra Gio Masseria e Salvatore Baranzano, la figura di Lucky Luciano, avile capo della Cosa Nostra statunitense, si intrecciò inevitabilmente con gli eventi. La lotta interna minacciava gli affari criminali, spingendo Luciano a manovrare con destrezza per salvaguardare il suo impero. Il momento cruciale si consumò il 15 aprile 1931, al ristorante Scarpatos di Coney Island, quando Luciano orchestrò l'assassinio di Masseria insieme a un gruppo letale, tra cui Bugsy Sigel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia. Questo atto frantumò il vertice del potere criminale, aprendo la strada a nuove dinamiche e consolidando il dominio di Luciano. Dopo la morte di Masseria, Luciano stabilì una tregua strategica con Maranzano, riconoscendolo come capo dei capi e ottenendo il controllo delle attività precedentemente gestite dal defunto Masseria. Tuttavia, questa alleanza si rivelò effimera, poiché Maranzano, percependo Luciano come una minaccia per i suoi legami con gangster non siciliani, intraprese la strada dell'eliminazione. La trama si infittì ulteriormente il 10 settembre 1931, quando Luciano e Genovese furono convocati da Maranzano a Park Avenue, per poi essere attaccati da quattro killer ebrei, travestiti da genti del fisco. In un rovesciamento di venti, i killer, assoldati segretamente da Luciano in collaborazione con il mafioso siciliano Gaetano Lucchese, pugnalarono Maranzano, architettando la sua fine. La leggenda della notte e dei vespri siciliani, un presunto sterminio di 90 mafiosi siciliani, si svela come un mito. Ma la storia registra comunque il consolidamento del potere di Luciano. Dopo la morte di Maranzano, Luciano assunse il ruolo principale nella criminalità organizzata negli Stati Uniti, ma avvitò deliberatamente la designazione di capo dei capi per sfuggire ad una potenziale guerra con l'ascesa di Al Capone. Al suo posto, Luciano istituì la Commissione, un organismo destinato a governare la Cosa Nostra, soddividendo le aree di competenza tra le cinque famiglie di New York, la Chicago Outfit di Capone e la famiglia di Buffalo di Stefano Magaddini. Questo nuovo ordine consentì agli altri boss di collaborare con gangster non siciliani, dando vita a quello che sarebbe stato chiamato Sindacato Nazionale del Crimine. All'interno della sua famiglia, Luciano promosse i suoi fedeli luogotenenti napoletani e calabresi, conferendo a Vito Genovese il ruolo di vicecapo e a Franco Stello il titolo di consigliere. Affiancati da Meyer Lansky e Johnny Torrio, in ruoli non ufficiali ma di grande influencer. La forte indipendenza tra le famiglie di New York e la Chicago Outfit sottolineavano l'abilità di Luciano nel tessere una rete di allenanze che avrebbe dominato il sottobosco criminale degli Stati Uniti. Lucky Luciano, nel culmine del suo potere, si ritrovava nella sontuosa suite del Waldorf Astoria Hotel, sotto il nome fittizio di Charles Ross. Amante del lusso e frequentatore assiduo dei locali esclusivi, circondava se stesso di belle donne e vantava amicizie con personaggi celebri come Frank Sinatra e George Ruff. La sua presenza era notevole anche nel bordello di Polly Hunter, frequentato da politici, uomini d'affari, giudici e gangster. Nel 1935, l'ascesa di Thomas E. Dewey, come procuratore speciale di New York, portò un'inversione di fortuna per Luciano. Dopo aver affrontato Dutch Schultz, Dewey si concentrò su Luciano, definendolo lo zar della criminalità organizzata di New York. La pressione legale costrinse Luciano a fuggire a Hot Springs, in Arkansas. Nel 1936 fu arrestato per sfruttamento della prostituzione, basato sulle testimonianze di prostitute che affermavano la sua leadership in un sindacato del crimine. Nonostante le negazioni, Luciano fu condannato a 30 anni di carcere nel giugno 1936 e trasferito nel penitenziario di Dannemore. Dietro le sbarre, mantiene il controllo della sua famiglia attraverso Vito Genovese. Nel 1937, Genovese dovette fuggire dagli Stati Uniti lasciando Frank Costello come nuovo capo. Luciano continua a esercitare il suo dominio, ora dietro le fredde mura della prigione. Nel 1947 Luciano tornò in Italia e fu imprigionato a Palermo. Rilasciato nel maggio 1947, si stabilì a Capri e successivamente a Napoli, dove aprì un negozio di elettrodomestici. Negli anni 40 un'indagine dell'agente speciale Charles Siragusa non portò a prove concrete contro Luciano. Ma la collaborazione con la guardia di finanza portò al sequestro di droga collegato alla famiglia lucchese di New York. Nonostante le denunce, Luciano evitò l'incriminazione per mancanza di prove concrete. Nel 1952 Luciano fu coinvolto in un caso di traffico di droga, ma nuovamente evitò le conseguenze giuridiche. Fondò una fabbrica di confetti a Palermo nel 1949 che divenne oggetto di scandalo nel 1954, quando emerse l'accusa che nei confetti prodotti da Luciano poteva esserci ruina al posto delle mandorle. La fabbrica fu chiusa la stessa notte dell'accusa. Le autorità italiane sul Consiglio di Siragusa revocarono il passaporto di Luciano nel 1952 per ragioni di pubblica sicurezza. Nel 1951 Luciano fu indicato nel rapporto del senatore Estes Kefauwer come capo internazionale della mafia. Nel 1957 partecipò incontri tra mafiosi americani e siciliani a Palermo, suscitando sospetti di organizzazione del traffico di stupefacenti. Poco dopo la tragica morte della sua compagna Ijea Lissoni, Lucky Luciano fu avvicinato dal produttore cinematografico Martin Gauche, desideroso di realizzare un film sulla straordinaria vita del mafioso. In precedenza, Luciano aveva già proposto un simile progetto a Orson Welles. Insieme, Luciano e Gauche iniziarono a lavorare su una bozza di sceneggiatura, ma inaspettatamente Luciano cambiò idea e richiese al produttore di restituirgli il materiale scritto. Decisero di ricontrarsi all'aeroporto di Napoli Capodichino il 26 gennaio 1962, ma purtroppo Luciano subì un infarto sul posto e morì all'età di 64 anni. Il funerale di Luciano si svolse a Napoli, presso la chiesa della Santissima Trinità, con la partecipazione di numerose persone, tra cui l'amico Joe Adonis. La bara, trenata da otto cavalli neri con pennacchio in testa, fu trasportata su un carro funebre. Successivamente, la salma di Luciano fu trasferita negli Stati Uniti, dove venne sepolta al St. John's Cemetery, nel distretto del Queens. La sua morte segnò la fine di una figura emblematica nel mondo della criminalità organizzata. Grazie per aver seguito questo viaggio attraverso la vita di Lucky Luciano. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, condividere e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi approfondimenti. Continuate a seguirci per esplorare ulteriori storie e segreti dietro il velo della storia italiana. Ci vediamo nel prossimo video. Questo è Nero su Bianco.